Sono qui questa volta con un'artista sanmarinese, Viola Conti. Ciao Viola! Ciao a tutti! Dunque, nel suo lavoro che presenta alla Biennale, Viola presenta un lavoro dove c'è fotografia e VJ, però non ama essere definita né fotografa né VJ, giusto Viola? Sì, esatto. Perché? Il motivo è che il mio progetto è un progetto vasto che comprende, se vogliamo, più discipline, se le vogliamo chiamare così, però è un progetto di arte multimediale, quindi preferisco non essere incasellata o semplicemente definita solo una fotografa o solo una VJ, in realtà non mi sento esattamente nessuna delle due cose, però ho usato queste tecniche per comunicare la mia ricerca artistica, quindi semplicemente sono un mezzo queste tecniche. Poi nel prossimo progetto, chissà, magari userò solamente il video o qualche cos'altro, sicuramente ho un interesse particolare per quello che è la multimedialità, quindi l'immagine digitale, il suono digitale e la cooperazione di tutto questo, per creare poi quello che è un'esperienza sia per l'artista che per lo spettatore, quello è l'importante. Certo. Ma parlaci di Admiral Point Center, il tuo progetto per Mediterranea 16. Sì, Admiral Point Center appunto è il progetto che ho portato a Mediterranea 16, e è un progetto basato su una ricerca artistica che ho fatto in quest'ultimo anno ed è basato su una mia personale riscoperta o scoperta del territorio sanmarinese che ho veramente visitato nel giro di un anno raccogliendo tantissime fotografie. In particolare la mia attenzione era stata catturata inizialmente dagli edifici vuoti di San Marino o semi abbandonati, o semi vuoti, e soprattutto i centri commerciali. Poi questo girovagare, questo viaggiare all'interno del mio stesso paese, dove tra l'altro sono stata assente per diversi anni perché ho vissuto all'estero per sette anni, e ritrovarmi di nuovo a San Marino sicuramente mi ha dato una prospettiva diversa rispetto al panorama, al paesaggio post-industriale sanmarinese. Quindi sì, è una raccolta di fotografie che poi sono diventate dei video, che ho montato in una serie di video, e che saranno presentati live, mixati live, e il tutto in un DJ set e visual set live. Che si terrà questa sera alle 23.30 presso la Mole Van Vitelliana, giusto? Esatto. Sì, questa sera la performance che presento è fatta in collaborazione con Kubi, che è un DJ professionista, nonché un amico. Sì, lui si occupa del DJing, io invece mi occupo di mixare i video live. Abbiamo preparato assieme un DJ set particolare, costruito comunque con una ricerca, con un criterio. Io ho un interesse particolare per la musica elettronica, sicuramente soprattutto per quella che è la musica tecno e la cultura che c'è dietro, che ha portato la musica tecno a nascere. Sì, a questo proposito, come nasce questo interesse verso le connessioni tra musica elettronica e paesaggio post-industriale? Questo è un interesse che è nato qualche anno fa. Mentre facevo la tesi di laurea, della mia laurea specialistica in scenografia, stavo lavorando a un progetto che esulava molto dalla scenografia classica e quindi stavo lavorando a una scenografia per una composizione, per un pezzo musicale. E quello che è successo è che siccome vivevo a Londra e viaggiavo in treno spesso e con il treno passavo proprio nel villaggio olimpico in costruzione e ascoltando con l'iPod musica elettronica di un certo tipo, soprattutto tendente a quello che sono i derivati dell'ambient music, che si sono poi mescolati con la tecno. Insomma, vedevo moltissima connessione tra il paesaggio che vedevo e la musica che ascoltavo, quindi ho voluto saperne di più, ho fatto una ricerca al riguardo ed effettivamente anche intervistando gli artisti che ascoltavo al tempo e che si chiamano Pendel Coven. Poi sono venute fuori proprio delle connessioni forti anche nella loro musica, che si fonda moltissimo su quello che li circonda, sull'ambiente e sul paesaggio post-industriale. Ed è nato un connubio forte, quindi da lì ho iniziato questa ricerca che è andata avanti e che porto avanti fino ad oggi. Sì, ho capito. Una domanda un po' provocatoria. Hai detto che il tuo lavoro, Admiral Point Center, è più una ricerca culturale che una denuncia. Ma secondo te sarebbe utile un intervento stile striscia la notizia su queste strutture in disuso? Dunque, non dico che sarebbe inutile, però sarebbe una cosa completamente diversa da quello che è il mio lavoro, il mio sentire anche. Non sono assolutamente per gli interventi stile striscia la notizia, però diciamo che in un altro contesto fatto da qualcun altro, perché no, potrebbero anche servire magari a risvegliare le coscienze, anche perché poi c'è da dire che spesso il pubblico dell'arte contemporanea o dell'arte multimediale, sono persone che sono già inserite in un certo tipo di mentalità, per cui è più facile confrontarsi ed essere capiti, mentre invece c'è tutta una parte di popolazione che magari non andrebbe mai a vedere Mediterranea 16 e che queste cose magari le vedrebbero invece molto più facilmente su striscia la notizia. Quindi in fondo sì, non lo farei io personalmente, però sì, potrebbe essere utile. Mi riallaccio a quello che hai detto, non ci sono molte persone che verrebbero a vedere Mediterranea 16, allora perché venire a vedere Mediterranea 16? No, dunque, volevo dire, c'è una parte di popolazione per cui l'arte contemporanea risulta difficile da capire, ostica e che quindi difficilmente verrebbero in una galleria d'arte contemporanea. Purtroppo è una grandissima fetta della popolazione italiana, penso che sia una cosa sotto gli occhi di tutti. Quindi sono anche consapevole del fatto che il mio lavoro è comprensibile solo da una certa parte, non è che parla a livello universale a tutti. Sì, però perché venire a vedere Mediterranea 16? Sì, un invito al pubblico. Beh, perché è importante vedere arte, perché l'arte parla della vita e parla dell'oggi. L'arte non dovrebbe essere una cosa slegata da quello che è la quotidianità, la vita, quello che succede nel mondo, sulla terra oggi, agli esseri umani e non solo, anche agli esseri non umani. E quindi, sì, è importante e penso che questa edizione di Mediterranea 16 abbia una particolare attenzione a quello che è l'oggi. E secondo me i curatori hanno fatto un buon lavoro, non hanno scelto degli oggetti belli che stanno dentro un cubo bianco, fini a se stessi, come spesso purtroppo accade. Però vedo proprio delle opere che parlano di tematiche importanti, che vanno toccate. Perfetto, con questo messaggio, questo invito, ti saluto, grazie per aver partecipato all'intervista. Grazie a voi, ciao. Grazie a voi.